I consiglieri regionali Sergio De Vincenzi ed Emanuele Fiorini al gruppo misto con Umbria Next e Fiorini per l'Umbria hanno aderito a Fratelli d'Italia e saranno candidati alle elezioni regionali. L'annuncio è stato dato in una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni alla presenza del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lolo Brigida, dei parlamentari Umbri Franco Zeffini ed Emanuele Prisco, del consigliere regionale Marco Squarta e di altri dirigenti locali. Lolo Brigida ha parlato di una lista in Umbria che si pronuncia particolarmente forte e competitiva. Squarta è stato indicato da Fratelli d'Italia come candidato presidente per la regione ma potrebbe formare un ticket come vice con la senatrice Donatella Tesei pronta dalla Lega. L'annuncio però di Forza Italia di voler candidare alla vicepresidenza Roberto Moroni ha creato subito qualche malonore. Giorgia Meloni e Matteo Salvini ha detto Lolo Brigida si vedranno a breve e definiranno i dettagli anche in Umbria. La visione di questi due importanti personaggi